Il problema è più importante gestire il dopo terremoto perché la calamità che ci ha colpito... Una città mortificata da chi ha interesse a metterla ancora più in cattiva luce, indossando l'abito bello e sparlando di tutto e di tutti, senza far prima un esame di coscienza. La locandina di un noto quotidiano stamane riportava la frase Pagani dimentica Marcello Torre, un'offesa alle persone per bene, alla gente qualunque, ai professionisti, a coloro che hanno condiviso con lui momenti difficili, che lo hanno accompagnato nel suo percorso politico e che oggi ancora rimpiangono la sua figura, spesso strumentalizzata da chi neanche lo ha conosciuto, neanche lo ricorda e lo ha avversato mentre era in vita. Pagani non dimentica, Pagani è fiera dei suoi eroi, fiera dei suoi figli per bene, dei buoni. Un tempo la bontà dei paganesi era riconosciuta dall'intero territorio ed oltre, oggi purtroppo non è più così. La malvagità, l'odio, la violenza, l'invidia, la gelosia hanno pervarso una parte della città, penetrando soprattutto in quegli ambienti dove la rabbia per vicissitudini della vita la fa da padrona. Pagani non dimentica Marcello Torre, come non dimentica tutte le persone buone, che hanno sacrificato la propria vita per amore della propria terra, che hanno combattuto, loro sì, con armi convenzionali ed istituzionali, la criminalità, il malcostume, le povertà a tutti i livelli, non solo economiche, animati dall'amore verso tutti, senza distinzioni, senza odio, senza rancore. Indossare una divisa perché si pensa che così si possa assurgere a paladini della legalità non significa volere il bene di tutti, anzi, spesso allontana. Allontana i ben pensanti, le persone per bene, che per fortuna sono ancora tante. Strumentalizzare vicende e situazioni ancora più persone e personaggi è il modo giusto per allontanare, per disperdere le energie positive. Quando un evento, tramandato negli anni, nato con tutti i buoni propositi, finisce nelle mani di pochi, dei soliti, che sono contro tutto e contro tutti e che mortificano ogni giorno l'amor proprio dei paganesi, dovrebbe far porre una serie di dubbi e fare una domanda. Perché? Vuole dire che c'è un cortocircuito, bisognerebbe cominciare ad interrogarsi. Pagani non dimentica e lo sanno bene i bambini delle scuole elementari che ogni anno, pur ancora così piccoli, partecipano in massa alla riflessione su un eroe della loro città. Lo sanno i ragazzi delle scuole medie e superiori che in classe apprendono e dibattono sulla figura del sindaco buono, del sindaco che avrebbe voluto una Pagani civile e libera. Ma il modus operandi utilizzato oggi da chi pensa di rappresentare la cultura e l'intelligenza di una città mortificata non è il progetto sicuramente che Marcello Torre sognava.